Ed eccoli qua, i nostri amici tifosi della Juventus e non in questa giornata che è un match day e quindi buon sabato 27 agosto a tutti quanti ragazzi oggi c'è da parlare della partita, ok, di stasera delle perplessità, dei dubbi, delle paure anche che ci stiamo portando dietro ma anche dare un occhio di riguardo al futuro e anche uno al passato per confrontarci con la stagione precedente perché al futuro, 6 settembre, PSG Juventus, il 6 settembre, senza Chiesa, senza Pogba probabilmente con Di Maria appena rientrato, vediamo se arriva Paredes appena concluso il mercato, 6 settembre praticamente dopo domani, tre giorni dopo la partita con la Fiorentina e questo sfondo viola non proviene niente di buono parlando di Fiorentina 14 settembre Juventus Benfica, 5 ottobre Juve Maccabi Haifa, 11 ottobre Maccabi Juventus 25 ottobre Benfica Juve, 2 novembre Juve PSG complicata perché c'è davvero da vincere le partite al centro del girone senza doversi preoccupare di arrivare a giocare il 25 di ottobre tra l'altro partita quella col Benfica che si piassa in mezzo a quelle con Empoli e Lecce orato il calendario, bisogna arrivare lì con una buona condizione per evitare di perdere poi tutto il resto, dato che farsi Benfica in trasferta e poi la finale con Juve PSG diventa un problema ma per queste cose e anche per eventuali aggiornamenti sulla probabile formazione ragazzi vi invito a scaricare il numero 10, trovate il link per l'app qui sotto in descrizione applicazione con la quale sto collaborando ormai da qualche mese lo sapete ci sono dei miei post partite, ci sono dei miei articoli che sto scrivendo per ottenere il patentino a giornalista pubblicista potete vincere una maglia della vostra squadra del cuore potete notare tutte le ultime informazioni di mercato in questi ultimi giorni e di formazione ovviamente quando si gioca alle partite, ve la consiglio, numero 10 qui sotto in descrizione e poi dobbiamo invece parlare anche appunto della probabile formazione e di quello che è stato provato ieri perché ieri veniva riportato un Perin o Chesni in porta, forse più Perin che Chesni una linea 4 composta da Alexandro, Desciglio, esterni di difesa con Bremer e al suo fianco Danilo un centrocampo con uno tra McKennie e Zaccaria Locatelli, Rabiot e un attacco composto da Kostic, Quadrado e Dujan Vlaovic quindi una formazione abbastanza simile in realtà a quella schierata a Genova probabilmente con un cambio che potrebbe essere emblematico e cioè Bremer avrà al suo fianco non più Rugani bensì Danilo quindi Desciglio che guadagna il grado da titolare che cosa ne penso di questa cosa? beh, fermo restando che si parla sempre della probabile formazione a me non interessa, lo dico tranquillamente non mi interessa quello che succederà sulla carta mi interessa quello che accadrà in campo mi interessa vedere un atteggiamento diverso mi interessa vedere una voglia differente mi interessa vedere una Juventus che non gioca in orizzontale in difesa per 45 minuti e mi interessa soprattutto il risultato finale il risultato finale di una partita che l'anno scorso abbiamo vinto sia l'andata che il ritorno anche questo ci ha permesso di andare appunto in Champions di poter parlare dei calendari perché senza vincere le due partite con la Roma forse ancora di più quella del ritorno con la follia di De Sciglio al duecentesimo minuto praticamente appunto De Sciglio ecco, ora capisco perché gioca di scede a parte gli scherzi probabilmente in Champions non ci vai e quindi la Juventus dovrà ripartire da questa cosa qui ragazzi, gli scontri di letti l'anno scorso abbiamo vinto solo con Roma e Lazio tra l'altro ieri sera Lazio che ha dato una bella lezione a quanto ho potuto capire all'Inter io non ho visto la partita, ho visto soltanto il risultato finale e il gol di Luis Alberto che è qualcosa di wow, se facciamo un gol così oggi in live reaction e vi aspetto alle 18 su Twitch dove inizieremo in live reaction impassirei, veramente impassirei per un gol del genere che mi porta in vantaggio e gli scontri di letti sono importanti e la Juventus credo che quest'anno sia molto più vicino alla Roma di quanto non lo fosse l'anno scorso e già l'anno scorso abbiamo rischiato a un certo punto di farci raggiungere anche dalla Roma quindi quest'anno sarà molto molto complicata la partita con la Roma io ieri ve l'ho detto sono un po' pessimista in questo momento ho delle sensazioni negative perché la partita con la Samp ragazzi mi ha tirato un pugno in faccia fortissimo e questo Juve Roma dovrà darci delle risposte cioè dovrà farci capire chi siamo ma soprattutto più che chi siamo dove vogliamo andare perché è questo che passa dalla prestazione e dal risultato finale di questo Juve Roma e questo è l'atteggiamento che dovrà dimostrare Massimiliano Allegri completamente opposto a quello di Genova dello scorsa partita di lunedì scorso e lo dicevo anche ieri in una conferenza stampa Allegri è davvero cambiato? ha davvero capito l'errore? l'hanno davvero sgridato? oppure è un continuare a illudersi che le cose potrebbero cambiare rispetto allo scorso anno e non lo faranno ancora? c'è bisogno di risposte non c'è più bisogno di chiacchiere non c'è più bisogno di sulla carta è inutile scervellarsi e dire io avrei fatto così e fatto quella non mi interessa davvero gli undici sceglieteli voi pescatene undici a caso mi interessa che ci sia un'idea di quello che si andrà a fare in campo e mi interessa che i calciatori tirano fuori i coglioni è un'idea efficace e se quell'idea non sta funzionando avere la lucidità di pensiero di capire che quella cosa non sta funzionando e che ci vorrà un'altra strada magari per portare a casa il risultato io ve lo dico solitamente non sono uno che fa pronostici ma io oggi mi sento il pareggio o addirittura forse la sconfitta faccio veramente fatica a sentirmi la vittoria oggi oggi faccio veramente alle 10.58 faccio veramente fatica a sentirmi una Juve che vince in casa contro la Roma e come vi ho detto la partita della Sam dell'altro giorno non tanto per il risultato perché diavolo puoi pareggiare con la Sam ma per quella che è stata la chiave della partita la voglia di vincere la partita che non c'è stata non c'è stato niente uno studio della partita per cercare di portare a casa non c'è stato niente quella cosa mi ha dato una sberla fortissima e allora voglio un'altra sberla fortissima ma al contrario una bella prestazione con la Roma una bella partita con la Roma un bel risultato tondo con la Roma in casa per ricominciare a vincere in casa tra l'altro leggevo che c'è una parte di curva oggi che ha organizzato una sorta di semicoreografia con delle bandiere bianche e nere da alternare tra i protagonisti per cercare di creare quell'atmosfera che manca da tempo in altro argomento che avevamo affrontato quest'estate quello relativo agli Ultras col Sassuolo io ho sentito cantare io ho sentito cantare di diverso rispetto a quanto non accadeva magari l'anno scorso e sono curioso anche di questa cosa qua perché quando poi una cosa smette di funzionare all'interno di un'azienda e la Juventus va immaginata come un'azienda pian piano inizi a perdere tanti pezzettini di qua e di là e quindi quando poi la dirigenza non lavora bene gli allenatori non lavorano bene i giocatori non lavorano bene il pubblico non lavora bene dopo smette di lavorare bene tutto e quindi se abbiamo la voglia davvero di vivere altre notti di Champions League almeno io dico almeno perché voglio partire con i piedi di piombo dopo la partita con la Samp perché io non ho ancora idea di chi siamo non lo so chi siamo noi io non lo so chi siamo noi e allora per darmi questa risposta per cercare di capire anche se banalmente si è lavorato bene in chiave mercato o si è lavorato male perché tutt'oggi io non ho ancora la risposta del siamo migliori dell'anno scorso siamo peggiori dell'anno scorso non lo so voi lo sapete io non ne ho la più pallida idea invidio tanto chi con decisione mi dice siamo nettamente più forti siamo palesemente più scarsi perché io non l'ho ancora capito e allora per capirlo bisogna passare da queste partite complicate qua come quella di oggi e da queste partite qua quindi dagli scontri diretti perché la Roma sarà una squadra che fino all'ultimo secondo me ce la porteremo di fianco a noi nel percorso che ci porterà a fine campionato voglio vedere anche da parte di Massimiliano Allegri quel qualcosa in più che a Genova non si è visto voglio che Allegri torni ad essere Allegri che lega le partite bene che faccia i cambi bene che porti a casa le partite che me le porti a casa in un modo o nell'altro senza dover per forza di cose regalare dei tempi interi alla squadra avversaria perché non siamo più in grado di leggerla quella partita o comunque se vuoi fare il cambio perché noi abbiamo cambiato Alexandro Perdeci è stato questo il cambio a fine primo tempo voglio un po' più di coraggio voglio un po' più di spinta sono tutte cose che l'anno scorso non si sono viste e che a Genova non mi è parso di vedere e quindi riscriviamo la storia ripartiamo insieme da oggi da Juve Roma che per quanto mi riguarda è già una partita di quelle che spostano tanto gli equilibri e soprattutto i giudizi all'interno della stagione dai ragazzi forza Juve portiamo a casa sta vittoria che non mi sento ma che sarebbe ancora più bella perché inaspettata non mi sento